e v e g e doppia v chi non sa chi è e v g v check ciao a tutti ragazzi sono video gamey v check e sono qui oggi con un video un po' diverso e si come potete vedere sono dentro un server ho comprato il gioco sono con degli iscritti qua che mi chiedono quando riesci a invitar la pirata ma vabbè il server non mi ricordo lo metterò in descrizione scusate mi han chiesto quando uscirà il prossimo episodio di vita alla pirata mi credo non fake ma quando guarderai il video ti saluterai aspetta che cosa sto dicendo vedrai che non sono fake è il primo server con cui vado e la gente già mi riconosce capito carino carino check non sei te ok vedremo vedremo comunque sia siamo qua nel server che metterò in descrizione penso di farci un gioco ogni tanto oh mio dio guarda il video va tra tra due giorni probabilmente comunque sia non sono qui per farvi vedere come discuto con gli altri noi ci vediamo in game e continuerò a parlare perchè tu sei in fiamme ragazzo mio non si sa oh mio dio oh mio dio è falso vabbè a tra poco ragazzi e sono tipo perso non so non so dove andare oddio c'è qualcuno non so cosa fare non so cosa fare correrò in giro per vedere un po' se troverò una cesta io odio questo bioma non so perchè ci sono stupido glitch no 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 ok 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 è andato male il primo va bene va bene e ci vediamo al prossimo round naturalmente le parti noiose le salterò come avete già potuto notare sicuramente dato che sono quelle dieci minuti che giro intorno per vedere se c'è se c'è qualcosa se c'è una cesta perchè io cercavo le ceste tutto convinto capito oh madonna qua cosa ho un'idea 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 ok dovrei avere l'invincibilità per un certo periodo quindi non dovrebbe essere un big problem il cadere da lì c'è gente che registra registro anch'io e vi vedrete i miei esoppi vedrete voi stessi in questo video come vi sentite ok possiamo sistemarci cominciamo a craftare un po' di roba mangiamo il pane perchè perchè l'ho messo lì ho fatto bene a uccidere anche un maialino poverino però andava fatto è un lavoro sporco ma qualcuno lo deve pur fare ok ho fatto questa cosa perchè di solito qui sotto non ci viene mai nessuno e quindi avrei più tempo per fare le mie cose le mie robacce le mie robacce sporche ok dovrei essere cominciato proprio alla grande che cosa vedremo chi è il più forte ok lui va bene va bene va bene queste risate isteriche guarda veramente quattro quattro chuck signore e signori quattro chuck no maledizione mi hanno presa ee quattro chuck e speriamo che questa sia la volta buona per arrivare almeno tra i primi dieci cioè ragazzi veramente i primi dieci neanche tipo deathmatch no eh proprio zero mi accontento dei primi dieci vabbè 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 ci sta ci sta non non farò distinzioni sto giro è un peccato perchè nello scorso gioco ee nello scorso gioco sono stato anche abbastanza bravo nel senso ho fatto un sacco di roba guarda proprio tanta dato che sono morto dopo un minuto praticamente che è iniziato sto roba ma comunque sia non non ci lamenteremo ulteriormente cominciamo a craftare le nostre belline cose belline cose capito come parlo come parla il dizionario di chuck parla il dizionario ok spero che ci sia nessuno vicino a me perchè nello scorso episodio c'è sempre stato qualcuno non sono il primo a morire sto giro prima si quindi sono abbastanza felice ah ok sono abbastanza felice di questo e speriamo che vada almeno al deathmatch così posso finire questo video comunque sia non faccio un grande torto a a molta gente dato che molta gente si sta come posso dire come posso finire questa frase che ho appena cominciato dato che molta gente si rivedrà in questo video capirà che mi sono fatto un account e non crederà più che sono un falso oh mio dio speriamo speriamo di farci almeno un po' di armatura sto giro tanto per essere sicuri eh maledizione perché nella puntata prima nella puntata nella cosa prima ero anche in una specie di caverna detto dai chi andrà a saltare di sotto nella caverna come faccio io evidentemente c'è gente che lo fa oh mio dio va bene così va bene così non non mi lamenterò altre altre però ok uh bello mi piace mi piace che culo magari la fortuna gira un po' dalla mia sto giro anche se avevo una mezza idea di fare degli younger games quelle lì con con tutte le strutture autogenerate insomma avete capito no? eh anche il anche il carbone ho trovato non ci vedo più niente mi so che dovrò fare una torcia c'è qualcuno? pfff deficiente deficiente due volte che cazzo sei messo? Ares ok eh ok facciamo così ok perfetto ehm dobbiamo andare più in profondità non posso essere bloccato ok dobbiamo andare più in profondità mi serve della cobstone per bloccarlo meglio pfff spero ti esploda vicino qualcosa ma sei un idiota sei sei fatto esplod- oh mio dio oh mio dio questo se se mi aveva preso mi aveva preso mi aveva preso ero incastrato oh mio dio oh mio dio c'è un altro no oh no perchè la gente non mi lascia in pace qualcosa da mangiare fortunatamente ok sta per distruggere qualcosa sta per distruggerlo ciop 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 boom boom cosa? ha vinto queste sparte? ha vinto ha vinto questa sp... hai vinto ho vinto oh mio dio ha 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 oh mio dio é stato epico è stato epico è stato epico oh mio dio oh mio dio mio dio perfetto va bene, chiudiamo qui l'episodio spero vi sia piaciuto credo farò altri contenuti di questo di questo genere noi ci rivediamo ci rivediamo al prossimo episodio ciao ragazzi